ben ritrovati un saluto a voi tutti ciao Angela si sente forte e chiaro si benissimo Giacomo e calma non ti preoccupare risolveremo tutto caro Giacomo Leonardo stai sempre sul pezzo e non ti preoccupare un fuoco d'artificio di qua uno di là così ti teniamo sveglio tutti allertati chi altro chi altro chi altro Piero ciao Piero e che cappe non c'è mai tempo Piero si corre sempre da una parte all'altra poi magari ci si collega di qua di là non si riesce mai a trovare un minuto di tempo libero ne avevamo tanto durante il lockdown e adesso non ne troviamo più e così è la vita quando abbiamo necessità di tempo non lo troviamo quando ce l'abbiamo non sappiamo che fare purtroppo è così dobbiamo fare di necessità virtù ciao Franco tutto bene qui tu sei fuori acqua viva ti auguriamo una buona giornata grazie Marisa Marisa sempre con i più piccoli beata a te beata a te che ti diverti lavorando e quindi formando il futuro benissimo siamo contenti per te e per noi tutti e poi ci sono ci sono gli altri ci sono gli altri non ve li posso menzionare tutti perché altrimenti la trasmissione si conclude e la nostra ora a disposizione dobbiamo sfruttarla per divulgare quelli che sono i vostri contenuti le vostre osservazioni le mail che giungono a telemaic e chioccialibro.it oppure attraverso il numero telefonico 351 931 9265 lo stesso numero telefonico ha la possibilità di ricevere immagini e filmati attraverso whatsapp quindi utilizzatelo pure nel momento in cui ritenete invece di dover intervenire in diretta stesso numero telefonico 351 931 9265 e voi direte perché ce l'hai sempre in sovraimpressione perché io a memoria non l'ho ancora imparato e quindi quello è fatto per me non per voi ci mancherebbe ognuno ha i suoi difetti io non l'ho ancora imparato e quindi ho chiesto alla regia cortesemente mettetemelo fisso sulla grafica in maniera tale che possa leggerlo mentre andiamo in onda e non possa dare i numeri perché qui sono tanti a dare i numeri e uno in più potrebbe creare tanti danni e io non voglio essere colui il quale provoca i danni perché se poi la misura diventa colma e si trasborda e questo provoca danni enormi ossia non ci si rende conto di quello che non va per tanti anni e anni e poi arriva un piccolo disagio e si scoprono tutti gli altri e questa è la bellezza della nostra italia quando poi si corre ai ripari per poter mettere una pezza dove si è avuta la possibilità nel corso degli anni precedenti di trovare le soluzioni più giuste affinché non si arrivasse poi al disastro in tutti i settori uno dei più eclatanti è quello dell'ambiente sappiamo bene ogni volta ne abbiamo parlato ogni volta ci hanno raccontato della necessità dell'urgenza di intervenire sono trascorsi i fior di anni e ad oggi ci dicono il tempo non c'è più eh sì e che facciamo e non sono d'accordo non si riescono a mettere d'accordo a livello internazionale e chi tira una parte e chi tira l'altro e chi vorrebbe ancora continuare come all'età della pietra chi vede ancora nelle miniere è la cosa più giusta da fare e insomma qui non si riesce a trovare una soluzione più si è e più è difficile trovare una soluzione perché noi esseri umani siamo bravi nelle emergenze nelle urgenze e non siamo bravi a programmare il tutto per cui quando c'è la necessità e allora ci si dà da fare finché non c'è la necessità si va avanti un tipico esempio è quella del mezzo e sentiamo il rumore e magari si accende la spiglia e magari c'è qualche altro problemino al nostro automezzo ma va in moto funziona possiamo andare finché poi rimaniamo come si suol dire per strada e allora siamo costretti ad andare dal meccanico e magari ci darà ci dirà il il meccanico caro amico e qui c'è da cambiare questo c'è da cambiare quest'altro così con l'altro tutti questi pezzi certo se tu fossi venuto prima avremmo potuto eliminare il piccolo problema che poi ha provocato il disastro ma se tu vieni da me in autofficina dopo che per 5 10 15 anni hai camminato si è andato con questo mezzo incurante del dover controllare questo e quell'altro e allora che cosa pretendi ora c'è da cambiare e da fare un intervento più radicale e quindi maggiori costi e un maggior danno ciao nicola l'ultimo arrivato al nostro messaggio che utilizziamo attraverso whatsapp per ricordare ai nostri amici che ci seguono sul social sulla pagina redazione telemaic che anche attraverso e social andiamo in diretta non solo con il programma liberamente parliamone ma con tutto il nostro palinsesto la nostra programmazione cosa che facciamo anche attraverso il canale youtube telemaic al mattino voi penserete che noi ci riposiamo e certamente non ci vedete non ci sentite e quindi mandiamo in onda il cosiddetto rullo che cos'è questo rullo una serie di informazioni che noi riteniamo utili per voi affinché possiate essere informati su quella che sarà la nostra programmazione qualche notizia rilevante che potrebbe esservi utile ma noi stiamo comunque sempre al lavoro stiamo al di là come adesso del teleschermo solo che non ci vedete non vedete il mio viso non sentite parlare in silenzio si lavora comunque dietro come si suol dire le quinte o la quinta a seconda sia una fatta una scuola o più scuole a uno studio o più studi quindi dietro le quinte sia una tanti studi dietro la quinta se ne ha solo uno una sola una sola stanza e una sola quinta una ricordate come facciamo così in televisione tutti ipnotizzati ho sentito stamane a una televisione importante una televisione importante che si diceva perché la televisione è un mezzo di comunicazione importante rilevante per cui è colpa diceva un collega mannaggia non ha messo questo collega è colpa della televisione faceva anche il nome che io non vi ripeterò perché non è elegante secondo me parlare degli assenti che faccio a parlare male della televisione degli altri reti non è corretto non è corretto in cui si diceva no è a colpa di taluni programmi di talune testate dalla carta stampata se si alimentano i no green pass o i no vax si sta dando troppa importanza parlandone ma e vabbè e quindi io ho riflettuto io ho detto ma certo che se un giornalista deve dire che non bisogna parlare delle minoranze che non bisogna parlare di alcuni disagi perché altrimenti diventa di si fa diventare o li si fanno diventare importanti ecco diventa un po discriminante da parte nostra se non una mini censura di quell'argomento ora questo programma questo nostro contenitore liberamente ciao enzo possiamo vederci e ci mancherebbe non appena termino il programma ti vengo a trovare però se vuoi mi puoi fare anche una telefonata e ne parliamo in diretta e allora ciao enzo dicevo che questo contenitore liberamente parliamone serve proprio a dare la possibilità a chi sta dall'altra parte del teleschermo ad utilizzare uno spazio per poter informare gli altri per potersi sfogare sempre naturalmente nel rispetto e con i termini giusti perché non dobbiamo offendere nessuno e ci mancherebbe parlare degli argomenti riferire i fatti lo si può fare anche in forma anonima senza dire il proprio nome e per mettere in risalto appunto quanto avviene ora se lo facciamo noi in maniera unilaterale diventa una semplice linea editoriale che segue naturalmente quanto piace al direttore responsabile in questo caso al sottoscritto affinché attraverso le informazioni diffuse divulgate attraverso l'emittente visiva telemaic si segua una determinata linea nel momento in cui voi avete questa opportunità in liberamente parliamone è naturale che gli assenti sono ingiustificati non so se sono chiaro e quindi più chiaro di così non si può ora questo spazio liberamente parliamone con questo numero telefonico 351 931 9265 come a disposizione dei nostri telespettatori che ci seguono dalla puglia digitando i tasti 97 del telecomando quindi digitale terrestre 97 e invece 884 per chi ci segue dalla basilicata diventa semplicissimo comporre il 351 931 9265 ed intervenire in studio non lo so un sindaco un consiglio comunale ora io dico facciamo l'esempio a me piace fare gli esempi certamente perché così spero di spiegarmi meglio e quindi penso che chi è dall'altra parte del teleschermo possa comprendere meglio il mio pensiero almeno me lo auguro se gli esempi non vanno bene perché potrei anche floppare si dice così potrei anche fare un esempio sballato chiamatemi e ditemelo in diretta o mandate un messaggino attraverso whatsapp ma l'esempio è questo oggi è martedì 9 novembre ieri mart lunedì 8 novembre che cosa è successo lunedì 8 novembre in tutta italia che cosa è successo devo giocare io con di qua devo prendere una notizia ne devo prendere un'altra andiamo a prendere questo ecco quella dei rifiuti che cosa è successo quella dei rifiuti mi interessa che lunedì 8 novembre si è svolto lo sciopero nazionale del settore quale settore quello dei servizi di igiene ambientale le difficoltà hanno riguardato l'effettuazione dei servizi di raccolta e di spazzamento inoltre magari dove si è c'è stato questo sciopero ci sono stati anche gli sportelli magari dell'atari chiusi se gestiti da aziende che si occupano i servizi di igiene ambientale non direttamente dal comune gli infopoint i centri dove ci si rivolge per scaricare i propri rifiuti indipendentemente da quanto si conferisce nei singoli mastelli nelle giornate previste ora che questo sciopero era stato organizzato lo si sa dalla fine di settembre lo abbiamo ricordato noi ad ottobre leggendovi anche le note stampa le segreterie nazionali hanno fatto il loro comunicato hanno divulgato il loro volantino ma alla nostra redazione e aiutatemi se sbaglio non è giunta nessuna mail da parte né dell'azienda e né degli amministratori per esempio di acquaviva delle fonti o dei sindacati di acquaviva delle fonti allora è naturale che è vero che c'era stata la proclamazione dello sciopero nazionale e di questo vi avevamo informati ma e poi ad ogni sciopero c'è un'adesione o meno hanno gli utenti di acquaviva delle fonti come quelli gioia di tutti i comuni di essere informati che in tale giorno non si effettuerà la raccolta dei rifiuti perché per quanto riguarda lo spazzamento delle strade ma può anche interessare poco tanto detto tra di noi sporche stanno e sporcono sporche rimangono quindi non se ne accorge nessuno ma ora vi dirò il perché era invece necessario anche per lo spazzamento delle strade informare gli utenti ma vogliamo informare gli utenti che il centro con una raccolta sarà chiuso e allora siccome sappiamo bene che gli utenti sono coloro i quali pagano il servizio ebbene evidentemente sappiamo bene che c'è qualcosa che non funziona non è giusto che la nonnina il nonnetto il giovane tutti gli utenti non sono stati informati come doveva essere che ad acquaviva il lunedì mattina non avrebbero raccolto l'organico e quindi anche gli esercizi commerciali avrebbero dovuto sapere che non avrebbero raccolto nemmeno i cartoni perché lo sciopero riguardava tutto il settore a livello nazionale e quindi non un tipo di rifiuto da raccogliere ma l'intera giornata si sarebbe svolto lo sciopero quindi ad acquaviva non avrebbero raccolto l'umido la parte organica per quanto riguarda i cittadini e i cartoni e altro per quanto riguarda gli esercizi commerciali ora se gli utenti pagano il servizio per quale motivo non sono stati informati come era loro diritto la nonnina il nonnetto ma anch'io non siamo obbligati ad andare su facebook mettetevi in testa amministratori politici non so come chiamarvi o cambiate le leggi o per il momento non è attraverso facebook che i cittadini devono essere informati che c'è uno sciopero e non sarà effettuata la raccolta quindi l'assessore competente di qualsiasi comune o il sindaco di qualsiasi comune o anche un semplice consigliere della stessa azienda avevano il dovere di informare gli utenti cittadini che in quella giornata non si sarebbero raccolti i rifiuti l'organico per gli utenti cittadini e i cartoni per gli esercizi commerciali ora io perché vi dico questo perché senza entrare nei dettagli della normativa e approfondire quanto prevede la regolamentazione dello sciopero e quindi cosa bisogna fare cosa bisogna comunicare e come vanno avvisati gli utenti non voglio in questo spazio entrare nei dettagli di questo voglio semplicemente dire ma se noi andiamo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 16 in diretta fino alle ore 17 possibile che gli amministratori i politici l'azienda chiunque non abbia avuto la sensibilità la voglia l'accortezza lo stimolo di chiamare il numero telefonico 351 931 9265 per dire a chi segue telemaig quindi un mezzo di comunicazione di servizio pubblico per dire cari cittadini cari utenti nella città di acquaviva per esempio lunedì prossimo non sarà effettuata la raccolta dell'organico per cui cari amiche cari amici illustrissimi cittadini carissimi cittadini che avreste potuto chiamare come naturalmente nel vostro lessico avreste potuto dire comunicare gratuitamente guardate un po' senza nemmeno pagare la carta senza pagare una fissione senza pagare non so un'auto che potesse per le strade acquavivesi o di altri comuni andare in giro con un altoparlante dire attenzioni utenti è inutile conferire l'organico lunedì perché non sarà raccolto 351 931 9265 nessuno lo ha fatto e questo non significa che non sanno che esiste questo programma ma evidentemente non sanno fare gli amministratori non come amministrazione ma cosa pubblica ci mancherebbe questo lo decidono i cittadini quando vanno a votare ma dal punto di vista della comunicazione dell'informazione dovrebbero andare a scuola di giornalismo di comunicazione chiunque gestisca gli uffici stampa o i comuni mi interessa poco dovrebbero andare a scuola permettetemi una mia opinione si può dire si può esprimere ancora l'opinione e certo ognuno amministra come vuole e io faccio il giornalista in questa maniera esprimendo una mia personale opinione dovete andare a scuola è chiaro questo che dovete andare a scuola perché non avete ancora imparato ad utilizzare i mezzi di comunicazione non si può dire per esempio per gli acquavivesi che non si sappia che esistono emittenti televisivi non può un sindaco un consigliere comunale un'azienda che opera da quei delle fonti non sapere che esista telemaica non può non sentire la necessità un ufficio stampa chiunque sia di fare il 351 931 9265 se non ha l'opportunità di fare una mail diciamo non ha il tempo non ha voglia non di funzioni computer per comunicare ai cittadini guardate che lunedì non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti questo perché io lo dico? per mettere in risalto come le tante opportunità che ha la politica che hanno gli amministratori che abbiamo noi tutti che spesso ignoriamo o che spesso non sfruttiamo o non sappiamo cogliere e allora la stessa cosa succederà io dico per il PNRR quando giungeranno i soldini ai diversi enti e non saranno capaci di utilizzarli perché non è cosa si ha a disposizione ma è la capacità, la bravura di poter utilizzare quello che si avrà e si ha a disposizione altrimenti ogni mezzo resta lì ad ammuffire a far la ruggine come si suol dire a non essere utilizzato ed è una cosa grave dal punto di vista pubblico se si spendono delle risorse e non si portano i giusti benefici alla collettività e dicevo mi sto soffermando su questo soprattutto perché parecchie persone per strada mi hanno fermato tra i più le anziani le anziane le signore perché forse sono coloro i quali portano il mastello all'esterno forse sono coloro i quali sono più sensibili non lo so ma le signore sono state quelle che mi hanno chiamato e detto Gino, Gino buongiorno che cosa è successo? e vedi là che spettacolo guarda che spettacolo guarda che spettacolo non è questo ma lo spettacolo che non ho fotografato era nei pressi di piazza San Pio ad Acquavia delle Fonti ma guardare questo è la stessa cosa non cambia nulla perché il disservizio è questo c'era anche il vetro che si conferiva il lunedì grazie regia per avermelo ricordato e quindi organico e vetro devo aggiungere in alcune zone ora il vetro è più pesante in qualche occasione se non è pieno il mastello dell'organico è più pesante e quindi trasportarlo all'esterno pieno di bottiglie di vetro e poi riportarlo indietro per una vecchietta per uno che ha 80 anni 70 anni mi sembra un po' troppo e allora la signora mi sensibilizzai mi diceva guarda che spettacolo allora c'erano questi mastelli dell'organico con sopra anche delle buste contenenti dei pannoloni si chiamano così non vorrei sbagliarmi ora io dicevo ma c'è stato lo sciopero cosa dovevo fare cosa dovevo dire alla signora la verità che c'era lo sciopero mica gli potevo subito dire che vuole la mia signora se le amministrature non l'hanno avvisata e non volevo farle arrabbiare la signora perché già lo era per i fatti suoi se poi le aggiungevo la mia osservazione e magari diventava più arrabbiata di prima e io invece la dovevo rassicurare la dovevo far calmare e dovevo farle capire quale potesse essere stato il disguido si si va bene che c'è lo sciopero che significa a me non l'ha detto nessuno che ci sarebbe stato lo sciopero a chi devo andare a chiedere io tutti i giorni a qualcuno se ci sarà lo sciopero o meno c'è quel che mi deve avvisare che c'è uno sciopero devo leggere un manifesto devono dirmelo non so quando vengono a ritirare i rifiuti il venerdì che lunedì successivo ci sarà lo sciopero devono mandarmi una mail quando mi mancano mandano le bollette da pagare diceva e sanno il mio indirizzo come mai non mi hanno voluto e io dicevo qua c'è lo sciopero così e purtroppo e si la signora continuava a dire si Gino hai ragione lo so poi l'ho capito che c'è lo sciopero perché me l'hanno detto ma oggi quei mastelli che stanno a fare ancora lì lo sciopero era ieri non oggi giustamente io ho detto hai ragione perché è un'organizzazione seria che fa dice a chi ha fatto sciopero il giorno prima siccome hai provocato questo danno lo sciopero è legittimo con buona pace dei sindacati così sono contenti tutti loro ma legittimo è anche il fatto che se c'è un rifiuto per strada cari amici dei sindacati e aziende e amministratori non si può provocare questo impatto ambientale chiamiamolo così voi che siete così sensibili all'ambiente non so se sono chiaro quindi quando vi siete resi conto che c'erano n persone che da voi non sono state giustamente come sarebbe dovuto essere informati quindi ingiustamente non informati avreste dovuto correre ai ripari e dire all'azienda cerchiamo di non lo so di raccogliere questa parte organica perché non la possiamo lasciare fino a giovedì prossimo all'esterno della nostra città diventa puzzolente e meno male che non siamo in estate ma qualche raggio di sole potrebbe arrivare e comunque con questa umidità e con queste temperature che non sono basse i moscerini la puzza scusatemi se lo devo rimarcare si sente e allora questi contenitori che possono essere nelle immediate vicinanze di una farmacia di un bar di un ristorante di un esercizio commerciale di un supermercato di una salumeria di una macelleria vi sembra decoroso e normale che debbano restare tutto il lunedì tutto il martedì e tutto il mercoledì tre giorni all'esterno con buona pace dello sciopero nel momento in cui tu hai giustamente informato i cittadini gli utenti e allora magari li sanzioni pure se hanno messo il mastello all'esterno e non l'hanno riportato in casa ma nel momento in cui tra virgolette non hai informato come avresti dovuto chiuso le virgolette i cittadini vogliamo togliere quelle porcherie che stanno per strada le avreste già dovuto togliere ma perché non l'avete ancora fatto dove la nonnina di 80 anni che ha già dovuto fare i sacrifici scendere lasciare il mastello lasciare il mastello ritornare in casa ora che deve fare la stessa cosa la porta sopra con il pannolone che sta là sopra ma dai non è possibile anche perché mi insegnate che essendo stato all'esterno che ne so io che cosa è successo all'esterno o a pipì di un cane o a pipì di un essere umano che se l'è fatta sotto in quel momento uno scarafaggio un topolino una lucertolina che ne so che ci può essere in quel contenitore adesso non è genicamente corretto di portarmelo in casa perché magari io voto ma lo porto nel box o in altro ambiente ma comunque non devo dare spiegazioni a voi cari amici politici amministratori della ditta voi non me ne deve fregar niente dove io metto il mastello certo l'ho messo all'esterno ma lo dovete svuotare lo devo portare dentro cioè lo sciopero e chi se ne frega abbiate pazienza lo sciopero è reale efficace se poi dall'altra parte gli utenti vengono avvisati se poi lo sciopero lo fate per creare un disservizio ad arte non avvisate gli utenti questo significa che bisogna aprire un fascicoletto e andare a indagare e chiamare i soggetti che avevano l'obbligo di avvisare perché non sono solo i giornalisti che devono subire le querele temerarie o i tribunali della giustizia ma anche quei soggetti che pur avendo le medagliette e le fasce tricolori qualche volta sbagliano creando dei danni e dei disagi agli utenti e in questo caso di acquedere le fonti e magari anche di altri comuni questo non lo so ma da qua vivo è sicuro perché io la mia redazione mi dice non abbiamo ricevuto nessuna mail che ci informasse che ci dicesse avvise i cittadini che lunedì sarebbe stato lo sciopero e un comune non può non sapere che la raccolta non deve essere fatta e se è successo devono scattare le denunce non so se è chiaro non da parte nostra degli amministratori nei confronti dell'azienda e delle parti sindacali che non hanno avvisato il comune la legge parla chiaro non si sfugge ma visto che qui tutti sono contenti del disservizio mi fermano solo per strada e non telefono perché siamo evidentemente nell'era dell'omertà locale rivediamo le immagini perché abbiamo la centrale via Roma quindi non è che stiamo in un'area non so periferica la centrale voglio specificare quelle che sono le immagini che ci sono state inviate abbiamo la centrale via Roma quindi scatolo e organico poi abbiamo la centrale via Maria Scalera quindi via Roma questa è via Roma poi abbiamo via Maria Scalera ce ne sono altre ma io vi faccio vedere solo queste e poi voglio soffermarmi su via Mele che è quella dove si vede la strada libera ce l'abbiamo quella dove si vede la strada a sinistra tutta libera come vi dicevo prima il perché bisognava avvisare anche gli utenti che non si sarebbe svolto lo spazzamento perché gli utenti avendo in quella segnaletica l'indicazione che il lunedì si effettua lo spazzamento dalle 7 alle 8 c'è il divieto di sosta lo spazzamento meccanico c'è il divieto di sosta quindi questa è via Mele ma stessa cosa è su via Maria Scalera e su altre strade ci sono le giornate con la fascia oraria 7-8 dedicati allo spazzamento meccanico e quindi il divieto di sosta perché la strada deve essere libera per la spazzatrice ora io non dico che bisognava coprire i cartelli ma almeno su un cartello ogni tanto si poteva mettere un avviso dello sciopero e la gente non sarebbe scesa giù magari a mezzanotte a luna alle 2 correndo diciamo vanno a mandare a spostare la macchina mannaggia ancora mi prendo una contravvenzione o un'altra contravvenzione perché l'ho parcheggiata stamattina sul lato sinistro di via Mele e domani passa la spazzatrice fammelo andare a spostare da qualche altra parte e poi scopre invece che siccome c'era lo sciopero quel doversi togliere il pigiano rimettere gli abiti scarpe scendere spostare il mezzo e poi ritornare su uovarsi rimettersi il pigiano eccetera è stato tutto inutile perché c'era lo sciopero e lui non è che non fosse informato ma non gli era stato comunicato così come si è previsto non so se sono chiaro spero di sì e quindi possiamo cambiare argomento se Gino se chiamiamo fare notare alcuni problemi che l'amministrazione non vede e poi dopo due mesi ti accorgi che le cose stanno come prima scusami la mia replica piazza Garibaldi la pavimentazione è ancora così i lavori fatti dall'Enel in via Santino Ventura sono ancora così se ricordi vogliono riqualificare piazza San Francesco quando abbiamo piazza Colbe senza giostre in uno stato di abbandono cosigni senza giostre vuol dire forse che lì non ci sono state le giostre e qui non hanno rovinato le giostre la piazza non so che cosignifica perché non riesco a interpretare però mi è sembrato sicuramente di capire che piazza Colbe è in cattive condizioni in uno stato di abbandono sarà sporca non lo so c'è la pavimentazione da rivedere non ho idea non ho nessuna foto così mi scrivono e così vi leggo e veniamo ad alcune notizie ci accingiamo a concludere il nostro programma siamo nella parte finale commissione antimafia presidente Perrini abbiamo raccolto il grido d'allarme dei prefetti e dei procuratori la politica torni nel territorio per fare azione di prevenzione con i giovani a nome dell'intera commissione regionale sulla criminalità pugliese ringrazio le prefetture e le procure pugliesi che hanno risposto al nostro invito apportando non solo preziosi contributi al nostro lavoro ma stimolandoci a ritornare a svolgere la funzione che sui territori e la politica ha smarrito essere cuscinetto fra le istituzioni e la società un ruolo che se svolto correttamente potrebbe prevenire molti fenomeni andando a riempire quei vuoti dove si insinua la criminalità comune ma soprattutto organizzata noi politici dobbiamo tornare a parlare con la gente soprattutto con i giovani i fatti avvenuti nelle serate di Movida Barletta e Biceglie sono la punta di un iceberg di generazioni che il sabato sera trovano normale uscire armati di coltello e uccidere per futili motivi eh sì questo è il ruolo che vorremmo svolgere come commissione raccogliendo il grido di allarme dei prefetti e procuratori senza sottovalutare la richiesta di potenziamento di organico delle forze dell'ordine che gireremo i nostri partiti a livello nazionale perché possano fare pressioni sul governo nazionale e sul ministero dell'interno per alzare l'attenzione sulla Puglia eh sì e allora a proposito di questo dobbiamo senz'altro dire che l'attenzione certamente le risorse certamente la segnalazione certamente eh se riusciremo ad ospitare attraverso un collegamento il presidente Perrini parleremo eh dell'argomento ma senz'altro c'è la necessità che eh ogni comune destini maggiori risorsi magari alla polizia locale perché insomma gli agenti della polizia locale sono pochi rispetto al rapporto operatori agenti cittadini c'è un rapporto che va salvaguardato eh non può non possono dieci vigili urbani eh fare dare la giusta attenzione una città di 20.000 abitanti è logico che se il rapporto prevede che ve ne siano 20 ne mancano 10 all'appello e poi possiamo fare tutte le riunioni che vogliamo tutte le assemblee che vogliamo tutte la sensibilizzazione che vogliamo ma se mancano gli operatori il controllo del territorio non si riesce a fare e questa cosa vale anche per i carabinieri e per le altre forze dell'ordine naturalmente cambiamo argomento tirocini formativi in consiglio regionale la Lega ha depositato una proposta di legge il gruppo consigliare Lega Puglia ha presentato in consiglio una proposta con la quale intende promuovere la formazione attraverso l'erogazione di borse di studio per tirocini formativi e curriculari da svolgere presso il consiglio regionale i tirocini destinati a giovani neuro laureati o studenti universitari iscritti all'ultimo anno di corso saranno finalizzati a favorire l'acquisizione di conoscenze ed esperienze nell'ambito della pubblica amministrazione il progetto prevede inoltre un finanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca per la valutazione di politiche regionali mediante la stipulazione di intesi accordi con le università pugliesi e la di su ecco maggiori informazioni un approfondimento se sarà possibile lo faremo con Davide Bellomo consigliere regionale se riusciremo ad avere l'opportunità e veniamo ad un'altra notizia interessante questa 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 è una cosa vecchia vediamo un po' sì scusa vecchia nel senso che l'abbiamo già detto del Tg è sempre di oggi Covid e l'abbiamo già detto nel Mike Notizie ne abbiamo già parlato di questo accordo con i medici di famiglia per le terze dosi perché ieri è stato raggiunto l'accordo con i medici di medicina generale per la campagna di vaccinazione con le terze dosi del vaccino anti-Covid i medici di medicina generale saranno un ulteriore fondamentale tassello per la somministrazione di dosi aggiuntive booster che si aggiunge alla rete dei punti vaccinali degli hub e delle farmacie soprattutto per i soggetti fragili e più a rischio garantendo anche le vaccinazioni a domicilio per i non deambulanti e è inutile che vi legga tutto il comunicato o abbiamo già fatto nel telegiornale per cui nei prossimi giorni cercheremo di approfondire anche questo argomento è una notizia che ci fa piacere dare su cui soffermarci perché diverse erano state le segnalazioni alla nostra attenzione delle categorie più sensibili quindi i soggetti più fragili degli stessi anziani naturalmente che si vedevano costretti magari ad andare a San Michele di Bari quindi a percorrere 10 km da quella delle fonti per quanto riguarda gli acquavivesi poi la fila magari in piedi fa freddo non fa freddo mi stanco non mi stanco insomma una cosa è stare in piedi a 50 anni oltre di restare in piedi per un'ora due ore dieci minuti mezz'ora a 80 anni a 75 anni a chi fa male la schiena a chi fa male la gamba a chi fa freddo non mi sembra sia giusto quindi bene siamo contenti di questa intesa che è stata raggiunta e nei prossimi giorni cercheremo di approfondire di che cosa si tratta e come magari per esempio ad Acquaviva delle Fonti si organizzeranno i medici per poter andare a casa e somministrare queste terze dosi del vaccino per contrastare il covid e in conclusione dobbiamo dare un'occhiata al quotidiano Italia Oggi che in prima pagina pubblica questa notizia il canone Rai sotto sfratto sarà pagabile con la bolletta elettrica solo fino al 2022 poi questi oneri impropri dovranno essere cancellati per rispettare gli impegni presi dall'Italia con il PNRR Il canone Rai rimane in bolletta fino al termine del 2022 scrive Italia Oggi fonti della commissione europea fanno sapere Italia Oggi che l'anno prossimo l'Italia dovrà far sparire il canone tv dagli oneri impropri dei costi dell'energia se vuole rispettare gli impegni presi nell'ambito del piano di ripresa e resilienza il cosiddetto PNRR l'imposta sarà comunque tolta dai costi dell'elettricità attraverso la riforma relativa al mercato dell'energia ora è inutile saltare sulla sedia e essere contenti perché perché la notizia non è che il canone Rai non si paga più allora a che pagina c'è l'approfondimento scusatemi andiamo a vedere sta scritto mi è sfuggito pagina 27 allora dicevo la notizia non è che il canone si pagherà più la notizia è che non lo troveremo più in bolletta cioè non pagheremo più l'Enel e il canone Rai è chiaro comunque andiamo a leggere l'intera notizia pubblicata a pagina 27 di Italia Oggi il canone Rai rimane in bolletta ma solo fino al termine del 2022 andiamo avanti lo fanno sapere Italia Oggi fonti europee l'imposta che finanzia la TV di Stato sarà dunque presto tolta dai costi dell'elettricità ciò dovrebbe avvenire attraverso la riforma relativa al mercato dell'energia e non mediante la legge annuale sulla concorrenza La decisione di esecuzione del Consiglio sul piano italiano di ripresa e resilienza comprende misure volte a garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'elettricità spiega un portavoce di Bruxelles quindi ad esempio questo passa dalla rimozione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non legati al settore elettrico tuttavia questa rimozione fa parte degli obiettivi qualitativi sulle misure relative all'energia che sono diversi in senso stretto rispetto alla legge annuale sulla concorrenza 2021 Già l'allegato di esecuzione del Consiglio europeo sull'approvazione della valutazione del piano di ripresa e resilienza per l'Italia indicava che le misure di accompagnamento per garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'elettricità entreranno in vigore al più tardi il 31 dicembre 2022 tuttavia lo scorso luglio si indicava una possibile rimozione del canone RAI dalla bolletta già attraverso la legge annuale sulla concorrenza 2021 l'esborso per le famiglie di 9 euro al mese per 10 mesi per complessivi 90 euro all'anno in bolletta è frutto della riforma del 2015 voluta dall'allora premier Matteo Renzi per contrastare il problema dell'evasione attraverso la riforma è stato anche ridotto l'importo che era di 113 euro all'anno quindi prendete il tacquino e scrivete quanto pagavate ora attraverso la bolletta Enel e quanto pagavate prima perché la fregatura sta sempre dopo non so se sono chiaro e siccome noi abbiamo la memoria corta poi non ci ricorderemo più di questa differenza e saremo così contenti beh beh ci hanno tolto la bolletta non so se è chiaro sono stato chiaro contenti fessacchiotti contenti perché ci costerà forse di più ci costava di più non lo so fate i conti 113 e prima è semplice fare il conto va bene la debito dell'imposta attraverso le fatture emesse dalle società elettriche ha aumentato drasticamente il gettito riscosso e quindi che cosignifica questo o che c'era qualcuno che non doveva pagare e pagava o c'era qualcuno che essendo evasore è stato costretto a pagare tuttavia secondo quanto richiesto dalla commissione europea il canone appesantisce le bollette dell'energia che diventano molto più care dell'effettivo dovuto e quindi andrebbe tolto ma questa riflessione della commissione europea non posso definirla con le mie parole perché sarei sarei proprio non lo voglio dire guardate sono molto intelligenti questi signori e quindi non mi permetto con la mia grettezza e la mia piccola efficienza mentale di dire niente di più a quella frase che ho appena letto tuttavia secondo quanto richiesto dalla commissione europea il canone appesantisce le bollette dell'energia che diventano molto più care dell'effettivo dovuto e quindi andrebbe tolto ma va bene nel 2016 il primo anno di introduzione del canone in bolletta a Versallo erano state il 41% delle famiglie in più assicurando un incasso aggiuntivo rispetto al 2015 di oltre 420 milioni di euro con una riduzione degli evasori dal 36 al 10% e allora gli evasori sono stati ridotti dal 10% al 36 prima costava 90 euro all'anno a fronte dei 113 euro ma per la commissione europea il canone appesantisce le bollette dell'energia che diventano molto più care dell'effettivo dovuto e quindi andrebbe tolto ora chi sia lo scienziato che può solamente pensare che che voglio dire che i cittadini europei in questo caso italiani non riflettano su quanto accade ma non lo so voi che dite da 90 euro prima costava 113 euro prima si pagava l'intera somma andando alla posta e quindi anche la tassa postale per chi pagava la tassa eccetera eccetera tutti chi in versione ridotta chi qualcosa in più gli ho per 70 in versione ridotta 70 centesimi poi passato a un euro e quindi la bolletta era alta ma che cosa ci volete dire che ci togliete il canone Rai e quindi saremo contenti di pagare meno energia elettrica noi fessacchiotti non siamo cioè parliamoci chiaro non siamo proprio per niente fessacchiotti e quindi noi sapremo che rispetto ai kilowatt continueremo a pagare delle cifre alte di energia elettrica quanto poi a fronte dello stesso consumo l'Enel la fattura diminuirà rispetto ai kilowatt consumati allora saremo contenti perché l'energia elettrica sarà diminuita come costo ma non saremo contenti perché sarà diminuita di 90 euro perché ci avete tolto il canone e poi dovremo pagare magari 110 120 o magari 130 non so se è chiaro è certo perché ora era 90 euro un domani chi ci dice che non ritorni a 113 o a 120 o a 130 euro all'anno o aumenti ancora di più comunque questa mi permetto di dire era una delle cose che Renzi aveva fatto bene Renzi o chi per lui e che andandola a togliere farà contenti solamente coloro i quali in matematica so ciucci e solamente coloro i quali pensano che la politica in futuro ci farà spendere meno non sarà così per cui aumenteranno coloro i quali non la pagheranno ci sarà maggior necessità di risorse per la RAI radio televisione italiana e quindi gli schedati dovranno aumentarsi il costo si vedranno aumentati il costo questo è poco ma sicuro perché perché l'amministratore delegato la persona importante alla RAI fa i conti e dice io ho tot di spese in uscita ho tot di introiti ho bisogno di più soldi e lo ha già detto alle politici in commissione lo ha già detto cari amici la RAI ha bisogno di soldi ora la politica voglio dire dai più bravi i più vecchietti ai più ai meno bravi magari i giovani che hanno meno competenza ed esperienza politica e quindi parlamentare avrebbero comunque dovuto dire chiedo scusa RAI servizio televisivo italiano ma a Bruno Vespa quanti soldi gli dai chiedo scusa quanti soldi gli dai non gli puoi dare gli stessi soldi che gli danno a Gino Maiulli scusatemi che ha Bruno Vespa più di Gino Maiulli ha lo stesso titolo se ha lo stesso titolo deve prendere i stessi soldi altrimenti mandate a casa Bruno Vespa e mettete un Gino Maiulli non so se è chiaro perché la televisione quel programma non è seguito perché c'è Bruno Vespa e diciamo la verità ma perché è un contenitore in cui ci sono determinati soggetti trasmessi in una determinata fascia orata la RAI e la televisione italiana come per altri soggetti ma perché pagare tutti questi soldi tutti questi gettoni abbiate pazienza dovete diminuire i prezzi di questi soggetti si può ballare sotto le stelle con le stelle dove volete ma le stelle non devono essere pagate dagli utenti abbiate pazienza diminuite il gettone il cachet di questi soggetti la RAI è un servizio pubblico non è la Fininvest ma diminuiscono gli ascolti e quindi la televisione delle cosce fate l'affare alla Fininvest abbiate pazienza del Moulin Rouge fate l'affare alla Fininvest perché lo deve fare la RAI? la RAI bisogna di contenuti di rendere i cittadini i telespettatori più informati più bravi con un senso civico maggiore ha bisogno di persone che sappiano parlare in italiano io devo sbagliare il congiuntivo e altri verbi ma il Bruno Vespe di Torno non può sbagliare il congiuntivo e nella RAI ce ne sono tanti che lo sbagliano dalla prima ora di trasmissione all'ultima ora e prendono il fior di quattrini che gli basterebbero per andarsi a pagare qualcuno che gli insegni il congiuntivo o il modo di parlare e non so se è chiaro e allora si truccano a spese nostre si fanno belle a spese nostre e ci aumenteranno il canone perché così funziona il servizio pubblico e in più oserei dire ma per quale motivo dobbiamo avere tutti questi canali abbiate pazienza uno, due, tre e ma sono diventate centinaia e RAI di qua e RAI di là che sono tutti questi canali tutti questi contenitori con l'aumento dei costi noi guardiamo il telegiornale e vediamo la stessa intervista realizzata sul lungomare di Bari a RAI 1 RAI 2 e RAI 3 Puglia a che cosa serve? cioè io voglio capire a che cosa serve avere uno a stessa intervista che va in onda su tre TG differenti a che cosa serve? serve solo a pagare tre regie diverse tre direttori responsabili diversi a che cosa serve? anzi vi dirò di più non è bello vedere il servizio radio televisivo italiano dove si lascia il microfono all'intervistato e non c'è il giornalista e quello a memoria dice la poesia abbiate pazienza e non è possibile che RAI di servizio pubblico è questo? dove c'è l'intervistato e l'operatore che registra così deve funzionare il servizio pubblico e poi spendiamo fior di quattrini per la trasmissione che tempo che fa il tempo è più bello di qua e di là ma stiamo veramente scherzando e l'amministratore delegato deve andare a chiedere più soldi alla politica devi tagliare le spese caro amico mio come se le sono tagliate tutti i cittadini perché quando uno non ha i soldini in saccoccia diminuisce il pane che compra anziché un chilo mezzo chilo le polpette che deve fare quante volte va in pizzeria se ci andava non ci va più se deve festeggiare il compleanno al ristorante non lo fa più lo fa a casa se deve andarsi a comprare la torta chissà da dove se la fa a casa se la fa fare dalla nonnina caro amico amministratore delegato si diminuiscono le spese come fanno tutti i cittadini italiani è troppo bello come si fa nella sanità pubblica dire ho sforato in un milione di euro caro Stato dammi i soldi non è così che deve funzionare non è proprio così perché per il servizio dei privati non si dà la possibilità di sforare anzi se sfori sei cattivo e tutto quello che hai speso in più te lo piangi da te e non è giusto perché se tutti stanno dando un servizio pubblico tutti devono essere nelle condizioni di svolgere la loro attività con le stesse potenzialità e non essere menomati perché c'è la sanità di serie A quella pubblica e la sanità di serie B quella degli accreditati oppure la televisione di serie A servizio pubblico e la televisione di serie B quella delle locali non è così che dovrebbe funzionare perché chi ne soffruisce i cittadini sono tutti utenti che hanno diritto di avere dall'altra parte delle persone che operano senza essere su piani diversi altrimenti è bene informare gli utenti che ci troviamo su piani diversi e che quindi quando vai in un servizio pubblico ASL hai questo servizio ed è così quando vai in un ente accreditato è in quest'altro modo ma non per colpa dell'ente accreditato ma perché il servizio pubblico costringe l'ente accreditato a comportarsi in quella maniera stessa cosa per noi io parlo di sanità perché è più sotto gli occhi di tutti se ci sono delle lunghe liste d'attesa e di servizi e quindi il nostro tempo a disposizione è terminato chiudiamo così il nostro programma scrivetevi sul tacquino che abbiamo deciso all'inizio del programma di avere a disposizione che prima la bolletta era di 90 euro perché per 10 mesi si pagavano 9 euro al mese per quanto riguarda il canone Rai che fra due a fine 2022 che dal 2022 a più tardi il 31 dicembre 2022 quindi per un altro breve periodo sarà ancora pagato in bolletta prima che arrivasse in bolletta e pagare il canone insieme all'Enel costava 113 euro in maniera tale che scopriremo poi andando a scrivere sul tacquino il prezzo che si pagherà dopo se sarà aumentato o ci avremo guadagnato dopodiché andiamo a vedere chi l'ha fatta questa legge ci sarà un firmatario anche se viene l'indicazione dall'Europa vedremo a che partito appartiene come si suol dire dalle nostre parti e decideremo se votarlo o non votarlo più così si votano le persone nonno perché c'è l'amico c'è bello guagnon mi ha portato il pacco di pasta mi ha fatto avere la pensione e questo e quell'altro perché la pensione anche se ce l'hai non ti basta più se ci danno queste fregature ma per il canone ma per l'Enel ma per questo ma per quest'altro e cerchiamo di svegliarci un pochino perché a essere trattati a fessacchiotti sì ma ad essere a fare i fessacchiotti è molto differente loro pensano di trattarci da ma noi dobbiamo dimostrare di non esserlo e per farlo e concludo non c'è bisogno di scendere in piazza e dare fastidio ai commercianti a chi deve lavorare a chi deve tornare a casa perché c'è il figlio che deve accompagnare a qualche parte o perché deve allattare non so il bimbo e torna a casa e voi gli rompete le scatole a scioperare e gli bloccate la strada non è così non è così dovete bloccare dovete fare il danno a quelle persone che vi stanno creando il disagio non ai vostri amici e colleghi che siamo noi ci dobbiamo svegliare cari cittadini e che capperi siamo così tra virgolette poco accorti da fare il danno ai nostri amici a quello che la porta accanto non è così non è così per niente ero a 5 chilometri da un ospedale da un centro dialisi 25 anni fa in Calabria c'era un focherello acceso nella strada arrivo lì e io mi fermo con la mia auto assistenza tecnica la croce rossa sopra stampata assistenza tecnica per dializzati era il pomeriggio e quindi invernale e quindi già non si vedeva più ecco il focherello acceso se fossi stato di quelli che se ne fregano non l'avrei dovuto vedere ci sarei dovuto passare sopra e quindi senza problemi arrivare a destinazione ma invece avendo un senso civico avendo fatto il militare lo Stato e così colà mi sono fermato perché non c'era nessun cartello che mi dicesse attenzione tra 50 metri e 100 metri c'è un blocco stradale come si dovrebbe fare quando si blocca una strada provinciale ma questa è la nostra Italia che non è cambiata ad oggi visto come fanno gli scioperi come bloccano le strade e le città ora mi fermai e andai dai due poliziotti che stavano con la pattuglia gli chiedo scusi io devo andare all'ospedale D ed era 5 km dopo fanno i due poliziotti e che cosa vuoi che ti possiamo fare devi chiedere il permesso a loro gli dici come sarebbe devo chiedere il permesso a loro e a loro devo chiedere il permesso no noi non possiamo fare nulla e ci mancherebbe io li avrei voluto chiedere ma non l'ho fatto perché magari mi mettevano dentro mi portavano in questura chissà che cosa mi combinavano controllo dal mezzo il battistrato un millimetro in meno dieci millesimi in meno mi sequestrava pure in mezzo non so che cosa mi combinava allora dissi sì vado vado c'erano loro non penso che quelli mi menavano stavano loro a due passi vado gli chiedo scusa con chi posso parlare in dialetto colabrese che non ricordo nemmeno rispose allora io dissi senti devo fare devo fare senti devo fare un intervento quindi con la documentazione invece ci vedete anche il documento devo fare un intervento al centro dialisi dell'ospedale del paese eccetera eccetera che si trovava a 5 km c'è un apparecchiatur che non va e quindi è importante che io faccia subito l'intervento non vengo nemmeno non so nemmeno la Calabria vengo dalla Puglia sono partito stamattina fanno queste che costi possiamo fare noi noi non ci possiamo spostare cioè si trattava di prendere il era un come si chiama un contenitore insomma un vabbè un contenitore quello in alluminio dove c'era il fuoco spostare leggermente oppure alzarsi io sarei riuscito a passare ciò non ti possiamo fare nulla c'è lo sciopero di qua non si passa diciamo ma guardate che ci sono idealizzati quei poverini dei malati potrebbe guastarsi qualche altra macchina non hanno più quella di riserva e che fanno vanno a casa senza fare la dialisi è una questione di necessità non ci interessa mi risposero di qua non si passa e allora adesso che si parli di occupazione di strade di disagi ma è una barzelletta lo avete acconsentito addirittura facendo lì mettendo lì le pattuglie dello Stato a salvaguardare più quelli che stanno in mezzo alla strada che il cittadino che passava 25 anni fa e stiamo ancora oggi alla stessa situazione e c'è chi politicamente l'ultimo arrivato magari del Movimento 5 Stelle il Giovingello che dice ma così non va e così non va e così non va e l'hai scoperto oggi che così non va hai avuto tutto il tempo per modificarla enorme e fare in modo che una strada non si debba bloccare e che una provinciale non debba essere bloccata per dirvi il fatto per cui in quel caso si è fatto il danno a un loro concittadino non certo a un pugliese o a uno del nord a un loro concittadino che magari è andato lì per una dialisi urgente l'apparecchiatura non c'era a disposizione e gli hanno detto attaccati al tram perché quattro gatti stanno lì con il fogherello acceso per scioperare e chissà per quale motivo e per quale azienda o non lo so perché non ce l'ha scritto in nessuna parte e allora questo significa che per tanti anni noi abbiamo diciamo sopportato quanto avveniva ma ora evidentemente il bicchiere è colmo e se ne accorgono in ritardo quando sono costretti a farlo perché evidentemente altri interessi sono toccati per cui gli interessi di allora del povero dializzato contavano poco gli interessi di coloro i quali oggi vengono toccati contano di più e molto soprattutto dal punto di vista politico un saluto a voi tutti grazie di averci seguito e vi ricordo che anche quando potrete vedere la replica di Liberamente Parliamone avrete la possibilità di telefonare al 351 931 9265 per lasciare un messaggio utilizzare la mail telemaic chiocciolalibero.it grazie di averci seguito Grazie a tutti